Il Parco della Rocca di Cavour è una risorsa importante per tutti i cauresi ma anche per tutte le persone che vogliono venire a visitarlo. Offre infatti molti spunti interessanti dal punto di vista naturalistico, storico e paesaggistico. Come amministrazione chiaramente cerchiamo di andare a proteggere questo grande patrimonio, di difenderlo e allo stesso tempo di valorizzarlo. Perché è giusto andare a proteggere le aree naturali ma è giusto anche permettere che le persone possano goderne in modo pieno. Come dicevo, quindi la nostra attenzione grazie anche all'aiuto e al supporto di molti volontari che operano in modo costante sulla Rocca per il mantenimento dei sentieri, per la pulizia e anche per la valorizzazione stessa delle peculiarità. Cerchiamo quindi di aumentare e di rendere ancora più fruibile questo nostro parco.